Monti vuole ministri politici e punta al 2013. Quello del PDL sarà un atteggiamento costruttivo nei confronti di Monti, a condizione che ci si confronti su una proposta programmatica e sulla struttura del governo. Nessuno può pensare a consensi e al buio, anche perché noi dovremo portare una precisa proposta all'ufficio di presidenza, lo ha detto in una nota Fabrizio Cicchitto. Crescita, riforme e tagli, gli imperativi per il nuovo governo. La crescita da una parte delle riforme e tagli dei privilegi dall'altra saranno queste le stelle porali del futuro governo, chiamato a rispettare gli impegni presi dal dimissionario esecutivo Berlusconi in sede europea e a rispondere alle sollecitazioni arrivate la scorsa estate dalla BCE. Il programma sarà fitto e difficile, ma non potrà prescindere da alcune voci che costituiscono il percorso obbligato per riportare l'Italia in carreggiata, voci sulle quali però i partiti che sosterranno l'esecutivo hanno da tempo espresso opinioni divergenti, anche al loro interno difficili da conciliare. Fiat stop a produzione auto a termini merese a partire dal 23 novembre. La Fiat smetterà di produrre auto a termini merese a partire dal 23 novembre, ultimo giorno di produzione. Oggi gli operai della Fiat e dell'Indotto sono in cassa integrazione. Il rientro in fabbrica è previsto domani. La produzione andrà avanti per altri 4 giorni fino a mercoledì. Poi lo stop alle linee per l'assemblaggio della Lancia Ypsilon. Gli operai saranno messi in cassa integrazione fino al 31 dicembre. Grazie.